Sì, sono contentissimo innanzitutto di aver firmato tre anni con una squadra comunale. Bravo! Sono contento perché mi è stata data questa possibilità e spero di sfruttarla al meglio. Ci alleniamo già da qualche giorno e vedo che comunque siamo un buon gruppo sia fuori che dentro il campo e sono sicuro che faremo bene. Naturalmente ci vuole del tempo per integrarsi bene nel gruppo, per far bene il gruppo. Comunque penso che i primi passi già si stiano vedendo. Piano piano in ogni allenamento mettiamo un mattoncino in più, sia personalmente che di squadra. Quindi sono sicuro che già dalle prime partite di precampionato si vederanno i risultati. Io rimango umile anche se comunque ho fatto bene gli ultimi tre mesi dell'anno scorso e ancora devo dimostrare molto. Sono solo al terzo anno in Serie A, quindi credo che ancora dovrò imparare molto, come tutti i giovani. E quindi di guadagnarmi i più minuti possibile per guadagnarmi la fiducia all'allenatore e dei miei compagni per dare il massimo. In 15 anni che gioco a basket ho sempre giocato dalla forte, quindi penso che, sì, all'occorrenza posso anche giocare dalla piccola, però credo che il mio futuro sarà da quattro. Sì, naturalmente firmando tre anni comunque è stato un gradino importante. La società crede in me perché comunque firmarmi tre anni credo che siano stati contenti e siano ambiziosi anche nei miei confronti. Quindi vedremo pian piano con il passare degli anni, però sono sicuro che faremo bene già dal primo anno.